Magna Pecorale, parliamo della biblioteca a Delfico, voi avete denunciato una carenza economica e una carenza di personale, avete chiesto un incontro alla provincia, ma quali sono le vostre proposte? Sì, noi abbiamo chiesto l'incontro alla provincia a fine maggio, perché durante un'assemblea erano venute fuori le solite problematiche legate alla carenza di personale e alla carenza finanziaria, che rendono difficile la prosecuzione delle attività della biblioteca, perché hanno problemi negli abbonamenti, nel continuare a fare gli abbonamenti alle riviste quotidiane e anche alle collezioni. Ora questo problema dura da anni, è una situazione quindi emergenziale ma che ormai si protrae nel tempo e che abbiamo cercato di evidenziare dando anche uno scossone. Le risposte che ci sono state date, noi avevamo fatto la richiesta di un incontro con il presidente e con l'assessore Di Michele, nonostante in verità la loro disponibilità all'incontro, poi c'è stato detto che i problemi erano stati risolti per cui era superfluo fare questo incontro. Dalla stampa avevamo appreso che i primi di luglio sarebbero andate otto persone, quindi otto lavoratori alla biblioteca, quattro dalla mobilità interna a seguito della riorganizzazione famosa dell'ente e quattro nuove assunzioni della Teramo Lavoro. Questo non è avvenuto. Dalla riorganizzazione che solo oggi le organizzazioni sindacali hanno, perché ci è stata consegnata una copia soltanto sabato scorso, apprendiamo invece che in biblioteca andrà soltanto una persona, una categoria B, e che chiaramente non è sufficiente. La carenza di personale si attesta sulle quattro unità di B e anche qualche bibliotecario. Quindi per arrivare effettivamente alla carenza di personale si attesta sulle otto unità, quattro categorie basse B e quattro categorie bibliotecari, quindi non semplici funzionari. Sulla carenza finanziaria è chiaro che il periodo che stiamo vivendo è noto anche alla CGL e stiamo cercando di mettere insieme delle proposte che possano garantire la prosecuzione almeno delle attività ordinarie della biblioteca. Si è pensato quindi alla progettualità, non soltanto alla partecipazione ai bandi europei o a quelli regionali, ma fare dei veri e propri bandi di idee, di progetti, che vengano finanziati anche attraverso l'intervento del privato. A mo' proprio delle classiche forme di sponsorizzazione di un'idea e di un progetto.